Visti i guadagni e la solidità del progetto ho deciso di investire ancora per una nuova strategia. Per festeggiare regalerò un pacchetto di stickers a chi commenta qui sotto e mi spiega perché gioca e cosa lo diverte di più su Pukki. Ho comprato una nuova palla rara. Eccola qui, molto bella devo dire, ne abbiamo altre. Quella che stiamo utilizzando di più ovviamente è la palla rara, questa qui, che abbiamo a livello 53 ed è quasi cappata, quasi a livello 60. Perché ne ho presa un'altra? Come vi ho mostrato nel video precedente, questa pallina la voglio expare tutta con roba tedesca per la Bundesliga. Proprio perché mi trovo abbastanza bene con la Bundesliga. Purtroppo la pallina non è specifica della Bundesliga. Pazienza. Ovviamente i due campionati che gioco sono quello italiano e quello tedesco. L'altra pallina ha come club il Torino, ovviamente Lega Italiana. Avrete già capito probabilmente quale sarà la strategia, ma ve la spiego. Semplicemente questa pallina la utilizzerò per la Serie A. Al momento ho dei bonus sicuramente inferiori a quell'altra, quindi sicuramente un po' ci andrò a perdere dal punto di vista di vincite. Ma perché la voglio giocare? Perché la voglio expare. Man mano che è expa, metto gli stickers della Serie A. Prima di tutto abbiamo 150 di energia. Man mano che la expiamo salirà ancora di più. Quindi tra stickers e energia riuscirò a coprire due campionati ogni settimana, il che è ottimo. Potrò giocare completamente due campionati ogni settimana con dei bonus rispettivi per i campionati. Dovrò cambiare comunque qui lo sticker del Monaco perché io ero convinto fosse il Bayern di Monaco, invece come giustamente mi avete detto è il Monaco francese. Vabbè, cambieremo questo sticker. Purtroppo qui abbiamo uno svantaggio rispetto a chi ha palline e stickers della Bundesliga, ovvero che abbiamo bonus sul Torino e sulla Lega Italiana. Ma questo non è un problema perché essendo la seconda pallina italiana, noi faremo in Serie A questa pallina, la Bundesliga, quell'altra e man mano la experemo. Cercherò di arrivare al livello 60, anche con questa pallina ci vorrà un po' di tempo. E nel frattempo avrò comunque la possibilità di giocare i campionati. Una volta raggiunto il max level di questa pallina, il vantaggio quale sarà? Ed è per questo che vi dicevo, peccato che sia Lecce e non Torino, che se avessi avuto sia Lega che Club identiche all'altra pallina, l'ascensione, ovvero rendere due palline rare, renderle una epica, quindi si bruciano queste due e se ne crea una epica. Sul white paper c'è scritto tutto quanto, poi se volete vi spiego bene come si fa. Se avessi avuto sia la Lega che il Club identici non mi sarebbe costato nulla, così mi costerà un 7% del costo della pallina, quindi ci sarà una spesa ulteriore. Però è una cosa che voglio affrontare perché i vantaggi sono tanti. Quindi innanzitutto sarà una pallina che avrà molti più bonus. In più avrà un 10% in più di bonus solo perché è una pallina che è venuta da un'ascensione, quindi dal barn dei due NFT uscirà quella e riceverà un 10% aggiuntivo. E in più sarà tutta sulla Lega italiana. Voi mi direte, se le palline avranno stickers sia tedeschi della Bundesliga sia della Serie A, dopo che che fattaccio esce fuori? Cioè che casino facciamo? Non è così perché nel momento del barn gli stickers vengono staccati dalla pallina. Dopodiché che cosa farò? Sarà ovviamente una pallina epica sulla Serie A, avremo comunque tanta energia in più, la utilizzeremo principalmente per la Serie A e anche per la Bundesliga o comunque, se non per la Bundesliga, per altre leghe. Ad esempio quella giapponese è interessante. Il bello è che gli stickers si staccheranno e quindi venderò tutti gli stickers della Bundesliga per acquistare o addirittura ascendere degli stickers della Serie A. Quando comprerò due stickers, ad esempio dell'Inter, andremo a fondere questi due stickers, essendo identici, per creare uno sticker più performante. E quindi mi riempirò tutti gli slot di squadre solide della Serie A, quindi andrò a vendere queste e andrò a vendere le altre eventualmente, per poi andare a acquistare e quindi ridurre il costo degli stickers che poi andremo ad ascendere della Serie A. Una volta che riusciremo ad avere questa epica, avremo la possibilità di giocare Serie A massimizzata, quindi avremo dei bonus ottimi e se riusciamo a ottenere Matic adesso, figuriamoci dopo, avrò anche la libertà, tra virgolette, visto che non importerà granché, di giocare su altri campionati che magari andremo ad esplorare. Questa sarà la mia nuova strategia. Ci vorrà del tempo. È un investimento, ma sono sicuro di recuperare anche questo e neanche in tempo, diciamo, troppo lungo. Per festeggiare voglio regalare, ve li faccio vedere, usciranno a breve, voglio regalare uno starter pack ad uno di voi. Quindi, se volete partecipare all'estrazione, vi basta commentare qui sotto al video il perché giocate a Puggy. Ovviamente per essere elegibili dovete essere registrati su Puggy e avere almeno una pallina NFT, anche se è quella base, insomma una common. Vi regalerò uno starter pack che vi aiuterà comunque a boostare la vostra pallina. Quindi vi basterà lasciare un commento qui sotto con il perché vi state divertendo, il perché state giocando Puggy e sotto il vostro wallet, collegato ovviamente all'account Puggy, in modo che io posso mandarvi direttamente i Matic o lo starter pack. Ti ricordo che ti aspetto sul nostro server Discord, lo trovo qui sotto in descrizione, e per i prossimi aggiornamenti ci sentiamo lì o al prossimo video. Ciao!